Un vino di farina Un bicchiere d'olio Acqua lievita quando basta Sale Miscelare in tutto La pasta deve essere molto elastica La pasta deve essere molto elastica La dose è certe per più di una torta verde, non per una sola, eh? Grazie a tutti! A presto. A presto è lavorato abbastanza. A presto ci si mette sul piatto. E si lascia riposare fin quanto non sopprono tutti gli ingredienti, due ore, tre ore, la pasta più riposa e più buona. Abbondante ore prima, così. Allora, cominciamo a porare l'olio nella teglia. E come vedi, la pasta è molto elastica. Perché se si lavora prima, automaticamente poi si lascia riposare. E questi sono i segreti della torta. E poi penso che chiunque fa così. Ma buoniamo la pasta. Grazie. 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 Perché la macchina è quella che è però… E in via. Cosa? Quindi adesso stai coprendo la torta, facciamo così, come che avanza la taglio, quindi quindi lo copri tutto, copri tutto e poi la picchiettiamo con una forchetta, un po' d'olio sopra, un po' di sale, la torta è finita. A quanti gradi la metti nel forno? Dipende dal forno, io ho il forno nuovo che non è tanto, che riscalda tanto. Ma cos'è? Un vertilato? Un vertilato, la metto al massimo e poi man mano che vedo che si incomincia è a basso. Ok, per quanto tempo più o meno? Io faccio tutto a occhio, in vita mia faccio tutto a occhio. Ok, per quanto tempo più o meno? Ok, per quanto tempo più o meno? Ok. Ok. Ok.